Un saluto dal Tg della Mobilità, cantiere in centro per la riqualificazione delle pavimentazioni di alcune strade in vista del giubileo. Sono in corso lavoro in via Giulia con modifiche di viabilità a partire dal divieto di transito tra Largo dei Fiorentini e Via dei Cimatori sino al 16 luglio. Sino al 16 luglio inoltre su Largo dei Fiorentini sarà in vigore il divieto di sosta H24 con zona rimozione tra Largo degli Orbitelli e Via Giulia. Sosta vietata anche sul Largo e Vicolo degli Orbitelli, riqualificazione stradale anche nell'area del Foro Romano e di Via Sant'Odoro, in relazione anche allo sviluppo del progetto dell'anello pedonale intorno al Colle Palatino. I lavori e le modifiche di viabilità proseguiranno sino ai primi giorni di agosto con la previsione di concludersi entro il giorno 8. E tutto appuntamento alla prossima edizione.